Non c'è problema, mia nonna mi diceva male non fare, paura non avere. In Italia a volte non vale, perché in Italia a volte male fare, vai avanti a farlo, però coscienza pulita, avanti, il nostro Vangelo è il contratto di governo che vogliamo rispettare punto per punto che abbiamo scritto con una forza politica diversa dalla nostra, con una storia diversa, un passato diverso, una cultura diversa, alcune idee diverse, però devo dire che oggi dopo cento giorni rifarei la scelta che ho fatto nel mese di giugno e farei rinascere ancora questo governo perché penso che ha fatto e farà buone cose per gli italiani e soprattutto è un governo libero che non deve rendere favore a nessuno.